Tanto è un sentiero che l'amministrazione comunale di Letto Manopello, insieme alle altre amministrazioni comunali del circondario, quindi parliamo di Abbateggio, San Valentino, Scafa, Manopello, si sono impegnate a riportare alla luce. Era il sentiero che alle 4 di notte circa mille persone che erano impiegate in questi siti minerari facevano. Partivano da Letto Manopello fino a raggiungere queste gallerie, per poi ritornare nuovamente dopo 12 ore di lavoro. Oggi a dirlo e a spiegarlo ai nostri giovani è veramente difficile, sembra quasi una cosa che non sia mai esistita, invece in realtà è esistita. Ha caratterizzato tantissimi anni, dal circa 1840 al 1956, questi paesi che si affacciavano sulla Maiella, sarà ripercorribile dal 26 e 27 di giugno, nuovamente in occasione della tredicesima giornata europea delle miniere, per la volontà dell'amministrazione di Letto Manopello e per un piccolo contributo di 25 mila euro che sono riuscito ad ottenere in seguito al bilancio regionale.